i nero azzurri nero azzurri ale ale l'interale ale l'interale ale l'interale i nero azzurri nero azzurri ale stratelli nero azzurri amici di facebook youtube e instagram buongiorno a tutti ragazzi un saluto a tutti gli iscritti al canale e buon martedì 12 marzo tanto grazie perché veramente un sacco di auguri ieri credo sia record tutti quei messaggi di auguri quindi grazie di cuore a tutti credo di averli letti tutti e messo il cuoricino se poi mi sono perso qualcuno lo vado recuperare in giornata insomma quindi grazie davvero per l'affetto poi su facebook su instagram grazie a tutti whatsapp non si è capito un ghezzo veramente grazie a tutti ho montato il primo regalo il primo regalo è stato montato e adesso siamo in attesa del secondo regalo per completare che dovrebbe arrivare giovedì quindi ci siamo ci siamo presto vedrete i cambiamenti finalmente perché mi ce l'ho tutto il cazzo quindi ragazzi quindi vigilia vigilia di atletico madrid inter ci siamo partita no tosta di più cioè già per l'atletico in più in casa loro mi sembra di aver capito che non hanno mai perso in casa loro nonostante poi abbiano delle debacle tipo l'ultima che hanno perso buco la terza ultima credono quindi è un po alterno però in casa è tosso l'atletico ci sarà un clima molto caliente molto caliente ho letto previsto record di spettatori e di incasso non so se per la stagione per questa stagione non lo so che che tipo di recorsia quindi saranno tarantolati dei nostri sono sono in 3.000 quindi tanta roba 3.000 cuori nero azzurri mi raccomando ho letto il ieri mi sembra il comunicato della nord mi raccomando tutti con la maglietta nero azzurra di modo che si spicca proprio poi il settore e e quindi insomma una buona parte di tifo c'è anche dalla nostra poi poi dipende da loro da chi scende in campo e poi se l'inter insomma se l'inter gioca da inter è capace che da una parte stanno zitti senti di più è capitato spesso quest'anno in stadi dove io le guardo a casa in trasferte dove sembrava di essere in casa quindi ragazzi voi lo sapete come la penso io sulla champions league per me quest'anno come la sto vivendo io è un qualcosa di più che è fantastico che sarebbe fantastico però è un qualcosa di più perché l'obiettivo è quello quindi voi direte ma l'inter deve l'inter deve un cazzo calma pili per terra portiamo a dama quello e vediamo dove si arriva in champions però non c'è dopo soprattutto la cavalcata dell'anno scorso una cosa pazzesca arrivare a giocarsi una finale cioè se in 116 anni di storia no ci stiamo giocando il ventesimo scudetto ed è il ventesimo lo vorrei ricordare a qualcuno che c'è qualcuno su youtube che si diverte a fare 19 più 1 queste cagate qui in realtà è proprio il ventesimo potevamo raggiungerlo prima il ventesimo però poi sono alcuni scudetti sono andati come sono andati ma il ventesimo lo vorrei ricordare a quello tozzo nero che forse non sa neanche la sua storia perché nel 1900 nel 1906 quindi noi dovevamo ancora nascere questi già zanzavano gli hanno assegnato uno scudetto al melan in segreteria se voi andate a vedere viene definito scudetto assegnato in segreteria quindi se lo vinci tu è il 20 e se lo vinco io il 19 più 1 ma andate a cagare che avete rotto il cazzo mamma mia così come come le champions la champions questo parlo dei gobbi parlo eh e quando gli dici sì vabbè ma tu ce n'hai ce n'hai una e mezza ce n'hai una forse forse che una le vinte rigori una le vinta con un rigore fuori area di un metro e mezzo no no quelle hai capito oppure gli scudetti dei gobbi hai capito loro possono mettere i due scudetti in più però poi ti vengono a farle pugno al 19 più 19 sarebbe il ventesimo perché ancora non è stato fatto un cazzo quindi questo lo dico soprattutto al milanista quello che fa il fenomeno la marotta league siamo dopati e parla di 19 più uno eh no caro si impara la tua storia e poi fai video quindi quindi la vivo così saranno tutti pronti a rompere il cazzo ma a me non me ne chiava un cazzo perché lo dico da inizio anzi lo dico da giugno io l'obiettivo è la seconda stella e fuori dai coglioni le cose che non servono quindi la coppa italia in questo caso perché invece la cosa doveva essere una partita all'inizio poi hanno cambiato tutto hanno cambiato le dalle non si è capito un cazzo questa supercoppa italiana poi perché non doveva essere così e quindi lì dicevo se è costretto andare a giocare quella porta la casa no comunque il primo trofeo e la champions vediamo di certo non mi faccio la testa se esco a fondo come si deve nel campionato ma questo è e lo dico ancora adesso con tutti i punti che abbiamo di vantaggio frega cazzi non me ne frego un cazzo di quello che succederà siamo già pronto che se l'intero dovesse dovesse inciampare uscire la rivolta la ribalta di milanisti in tv su youtube giornali di tv tutto perché perché deve essere un obiettivo perché l'intero è forte allora deve deve comunque arrivare in finale ma dove cazzo arriva in finale ripeto in 116 anni di storia sarebbe o il ventesimo scudetto o quante finali e non è che ogni anno si arriva sarebbe bellissimo sarebbe ogni anno arrivare in finale ma non è così quindi chiaro che se si passa godo però non dobbiamo avere rotture di palle di infortuni per il campionato perché già carlos augusto un paio di partite le zompa carnauto fuori un mese quindi numericamente ne avevi quattro finalmente adesso per un mese nei tre e quindi lì devi devi giostrare un attimino la situazione quello dico io quindi me la godrò come partita perché voglio battere il ciolo simone voglio andare avanti però se dovessimo uscire ma guardo guardo un attimino in italia guardo in campionato e dico vabbè dai quanti punti mancano per la seconda secco via sotto con quello perché quello è l'obiettivo dichiarato dalla proprietà dalla società dai giocatori dal mister da noi tifosi quindi tutte le tarantelle che stanno già facendo li vedono amiche se escono a frega cazzo e siamo usciti a madonna perché per noi non è un'ossessione come per alcuni i gobbi per i gobbi è un'ossessione cioè questi ci hanno visto arrivare a noi capito in finale così stavano impazzendo l'anno scorso c'è mancato veramente poco che insomma un po di gobbi secondo me ci lasciavano perché se stavano così se stanno così avvelenati con tutte tutto quello poi che è venuto fuori quest'anno cioè quest'anno è una cosa incredibile io degli attacchi così cose inventate addirittura cose pazzesche cose assurde quindi carica ragazzi perché domani veramente è un'arena è un'arena e nell'arena ci devono andare i gladiatori quindi formazione titolare per quella che che potrà il mister la tula quindi spero in un lautaro un po più riposato un bel toro riposato che ci serve come il pane adesso il toro che riprenda ancora a segnare e turam io l'ho visto bene l'ho visto a rientro comunque dall'infortunio mi sta piacendo e nino sanchez pronto pronto ad dare a mano pronto pronto ad entrare spero che mkhitaryan insomma gli abbia fatto bene riposare quei 25 minuti benji pavard che ha riposato insomma quindi e ci vuole l'inter col sangue agli occhi con la cattiveria poi o noi dovremmo noi avremmo due risultati su tre se pensiamo quello non va bene pensare che abbiamo due risultati su tre dobbiamo andare lì per vincere così se proprio dovesse essere un pareggio comunque si è passato ecco anche un pareggio come l'anno scorso un bel bel 0 a 0 sofferenza però così vedremo 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 me la vivo proprio beh ripeto sono così felice per quello che sta succedendo il campionato e la meta che che lì che la vedi insomma che che piano piano ci sta arrivando che questa me la vivo così me la vivo l'anno scorso ovviamente era diventato l'obiettivo principale e tu l'anno scorso tu pensa prima ho sentito è stato se ne è andato via sardi dalla lazio e la lazio ha fatto 12 sconfitte la lazio e nona l'anno scorso tu con 12 sconfitte sei riuscito ad arrivare quarto vabbè che manca ancora manca ancora un po però però questo è quindi l'anno scorso era diventato l'obiettivo principale è chiaro che dicevi il campionato spero di arrivare in champions ma tanto ma qui l'obiettivo principale che ti sei prefissato a inizio stagione è lì a 15 punti quindi speriamo di andare avanti in champions ma se non dovessimo andare avanti ragazzi calmi calmi che come dice il liga il meglio deve ancora venire basta ragazzi questo era il video della vigilia domani ci aggiorniamo per il giorno del football e poi più avanti vedrete l'evoluzione qua finalmente ma vediamo se cambiamo pure questa che è gigante non lo so vediamo vediamo anche altre cose anche dietro la tata giustamente dice che cazzo lo tu puoi spendere i soldi devo spendere anche io i soldi quindi vuole invariare anche dietro baschi mi lasci il cazzo di divano sono come le faccio live reaction guarda poi gli armadi vedi tu che cazzo di far ma lascia più almeno il divano maledetta disgraziata e basta ragazzi grazie ancora per gli auguri di cuore e ci aggiorniamo sicuramente domani per il giorno del football condivisione dei video inscrizione al canale sempre forza inter dai raga fate passaparola mancano 300 e qualcosa cacati iscritti dai su per piacere che vedo vedo canali che fluttuano e qui non si fluttuo è qui si fluttuo e lo so che si fluttuo in modo modo onesto qui però almeno cerchiamo di guagliare fate passaparola cazzo ciao